Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati o benvenuti sul canale. Oggi prepariamo un beauty da viaggio. Allora io devo partire, adesso stavo pensando un po' a cosa portarmi. Ho deciso di mettere qui dentro tutte le cose che dovrò portarmi. Quindi andiamo subito. Allora cosa principale e fondamentale. Se non avete niente di particolare da fare mettiamo meno prodotti possibile da portarci ovviamente. Io in questo caso dovrò partecipare ad una festa e quindi ho bisogno di parecchie cose. Ho deciso di mettere tutte le cose di cui ho bisogno in questa scatola di Sephora, dell'ultimo ordine che ho fatto da Sephora. E quindi ho pensato che per proteggere al meglio le mie palette metterò tutto qua dentro. Allora, iniziamo appunto dal make-up, poi iniziamo dalla skin care. Non lo so, non lo so. Iniziamo dal make-up. Ok, vediamo un po'. Allora, per prima cosa vado a prendere le palette che intendo utilizzare. In questo caso io sono molto e fortemente indecisa su cosa portarmi. Non lo so, non ho ancora idea di che trucco realizzare. Non so davvero che cosa fare. Non lo so. Se portarmi qualcosa di super glam, quindi molto colorato, o qualcosa di soft. Allora, io mi porterei la mia Sub Sculptor di Anastasia Beverly Hills. E mi porterei questa qua di Make-up Revolution. Perché ci sono i glitter, ci sono gli opachi, quindi porterei queste due. Ovviamente non può mancare il fondotinta. Se avete i pot dei fondotinta, tipo quelli che danno da Sephora o da MAC, che sono piccolini, non buttateli una volta terminati perché potrete mettere dentro il vostro fondotinta, chiuderlo e portarlo insieme, in modo tale che avete una size piccola e quindi non molto ingombrante. Quindi, fondotinta, primer, assolutamente. Cipria, cipria, assolutamente sì. Primer occhi, anche se io potrei utilizzare anche questo qua di Essence. Che però non ricordo se... Che va bene anche per gli occhi, credo. Ok, allora, mi porto solo questo. Anzi, no, porto anche lui perché non si sa mai. Meglio avere perché... Ok. Poi vado a prendere, ovviamente, la terra da portare, il blush, porto sempre lui. Quindi, terra, blush. Vado a prendere anche questa qua per settare la base, oltre alla cipria. E come illuminante non mi porterei io la palette, ma mi porterei questo qua che è in stick di Essence e, visto che è sui toni questo qua rosati, e quindi, sopra andrei con uno sparaflescioso bianco che non è più... Ok, questo qua. Perfetto. Poi, ovviamente, dobbiamo metterlo alle due palette e le abbiamo messe. Poi, cosa fondamentale... Io poi non mi sistemo mai le cose tutte qua, come fanno quelle. Abbiamo questo, abbiamo quello? No. Brava, Pamela, avrai un futuro. Poi, vado a prendere... Dovrei avere due, ma... Non so che fine ha fatto l'altro. Questa è una cosa molto grave. Questo è uno. E l'altro, che fine ha fatto? A qualcuno della mia famiglia dobbiamo spezzare le manine, le ditine adorate, perché non c'è più l'altro. Adesso vado a cercarlo e se non lo trovo faccio un putiferio. Ok, l'ho trovato. E sto parlando del lip gloss di Makeup Revolution che utilizzerò come base per sparaflesciarmi i glitter su qualsiasi parte del corpo io decida di metterli. Poi, per le labbra io porterei semplicemente semplicemente un nude e mi porto questo qua di Essence e mi porto anche questo qua di Makeup Revolution che è un glitter un glitter, vabbè, un lip gloss perché non sapendo che makeup fare io preferisco andare soft. questo qui per esempio è di Essence ed è ormai diciamo di sotto anche questo è molto bello però vabbè mi porto qui due e basta basta così sì suppongo che farò qualcosa di wow eccentrico sugli occhi vabbè poi 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 sto pensando ancora al fatto delle palette e voi direte perché stai pensando ancora alle palette perché non sono ancora convinta al 100% del makeup che andrò a realizzare quindi c'è l'indecisione totale e quindi non lo so allora quelli sono tutti opachi in quella palettina lì e quindi andiamo con questi due e vediamo un po' sui singoli colori ombretti che cosa abbiamo perché se no qua stiamo fino a domani ok ho deciso di portarmi questa palettina qui con i colori un po' più forti un po' più vivaci ok quindi abbiamo messo cose del viso cose così cose colì adesso vado a mettere qui dentro la spugnetta per il fondotinta vado anche a mettere una spugnetta per correttori e quant'altro anche se il correttore non lo uso perché mettendo il muro e il cemento armato con unfaible di solito non lo uso però ci può servire quindi la portiamo poi per gli occhi vado a mettere l'eyeliner vado a mettere vado anche a svuotare il mio temperamatita ok questo qua questo qua vado a portarlo insieme a me poi che altro devo mettere indubbiamente metterò un mascara mi mascara sono tutti sporchi tutti ok mascara sto vedendo cos'altro potrebbe mai servirmi non lo so è caduta la matita quindi vabbè la matita nera indubbiamente vado però a vedere qui dentro sempre zona occhi se c'è qualche tipo di matita che mi può tornare utile tomorrow 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 e questa è la differenza tra noi donne e voi uomini perché mettete due stronzate e ciao ciao questa che cos'è una matita metallica no no questa è una bianca che non so se mi può servire ma non credo proprio ecco questa me la porterei io questa e questa qui che sono una argento e una dorata dure come le pietre fantastico quindi questo poi vado a mettere all'interno uno specchio perché anche se c'è però nella palette quindi questa cosa la possiamo anche eliminare la possiamo eliminare e utilizzerei la palette di Anastasia con lo specchietto perché se non c'è anche questo piccolino troppo carino non lo so raga lo specchio c'è dentro lì ok aboliamo lo specchio così facciamo vedere che risparmiamo il nostro tempo e il nostro soprattutto spazio indubbiamente immancabilmente lo scotch per la riga precisa dell'occhio e adesso passiamo ai glitter da portare che ovviamente io non so quali portare questa è una grande e brutta situazione perché non so davvero davvero cosa portarmi questi glitter sono delle unghie e noi vedremo un po' adesso cosa portare anche se sono molto decida adesso sul fatto che io dopo proverò a fare un make up e vedrò quello che riuscirò a fare e mi porterò quello quindi a questo video ci saranno delle modifiche ma voi non lo saprete mai perché io dopo proverò a fare un make up per ottimizzare ancora di più le cose da portare e avere più che altro un'idea di quello che devo fare perché se no veramente me ne andrò nel pallone e perderò un sacco di tempo e il mio ragazzo come ogni volta dirà che io ci metto una vita per fare queste cose e ha perfettamente ragione sentite io opterei per questi colori il dorato lo lascerei questo qui toglierei anche questo blu e userei vediamo un po' incoccaggiante che però devo vedere l'effetto sugli occhi quindi per il momento e solo per il momento vado a mettere questi qui e io direi che per il momento abbiamo messo tutto quello che ci serve per il make up sto riflettendo sto guardando in giro per vedere cosa mi serve so che state pensando i pennelli i pennelli lo so ma i pennelli mi porto direttamente tutto l'ambaradano in modo tale da avere tutti i pennelli anche perché gli outfit saranno pochi perché mi fermo per poco tempo e quindi i pennelli li possiamo portare benissimo ok ho deciso di portarmi il nuovo set di pennelli quindi adesso vado dentro questo qui a sistemarmi tutti i pennelli che devo portarmi allora indubbiamente metterò questo che è per appunto fare il mio contouring e sfumare bene la terra vado a mettere questo per sfumare ancora meglio così vado a mettere il mio pennello per il fondo tinta il mio pennello per il contouring il mio pennello per il blush illuminante e adesso vado a mettere quelli per gli occhi e quindi indubbiamente vediamo un po' tra questi mi servirà sicuramente uno piatto poi vediamo un po' cosa c'è qui uno 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 cioè scrivetemi nei commenti se anche voi fate queste cose brutte per andare a partire perché io ogni volta metterò un altro piatto un po' più piccolo questi sono tutti ok questo qua andrà bene per sfumare eventuali pieghe dell'occhio questi qui allora uno di questi qua inutili questa volta proveremo ad utilizzarlo per i glitter e quindi vado a prendere questo nero che mi sembra un po' più rigido e porto lui vediamo un po' come si comporta e poi e poi e poi ok questi mi porterò lo scovolino per le sopracciglia poi di questi qua io li porterei tutti adesso gli diamo una mezza pulita con un asciugamano in un uidito giusto per togliere l'eccesso di prodotto e quindi non farmi poi sfumature strane e straus quindi sfumatura questo qua un po' più di precisione e poi altri pennelli da sfumatura quindi io adesso mi finisco di sistemare i miei pennelli e ci vediamo subito dopo perfetto pennellotti sistemati e adesso di nuovo nella box vado a mettere questo che ci sta per caso si ci sta ok godissimo voglio fare così così questi li metterei qui questi li possiamo spostare qui così quindi ci sta perfettamente dentro questi qui ok quindi altre cosucce da portare ovviamente con voi saranno poi tutte quelle cose che servono alla skin care almeno io sono così mi porto delle cose che poi utilizzo per il viso le creme e quant'altro come fare per ottimizzare questi spazi allora se abbiamo delle mini size è anche meglio io in questo caso sono fortunata perché le mini size ce le ho e quindi mi vado a portare quelle quindi mi porto due di bio bio term che sono un gel all'acqua dopo appunto aver struccato la pelle e una crema idratante questo è sempre in gel però idratante sono mini size che porto con me per quanto riguarda il l'acqua micellare oppure che ne so il latte detergente quale sono cose che hanno bisogno comunque di spazio quindi io mi porto invece di portarmi anche il latte detergente mi porto l'acqua micellare e strucco tutto con quello e mi porto il mio Hydra Basic per lavare il viso e mi porterei anche questo qui che è appunto sempre di Bioterm Bioderm Bioderm che è lo Skin Oxygen ed è un siero antiossidante detox porto questo e basta così non mi porto contorno occhi e quant'altro perché non voglio stare diciamo anche diciamo in questa mini vacanza a stressarmi con creme cremini cremette quindi è importante che io abbia il viso bello pulito e ciao ciao baby quindi questa è la box questa è la box con il make up da portare e adesso vado a fare un'altra borsa per tutto quello che devo mettere in più ok girls io ho preso questa pochettina e metto all'interno l'acqua micellare il gel le due creme e questo e metto anche i dischetti struccanti li lascio qui dentro in modo tale da avere tutto a portata di mano in un unico beauty e poi ovviamente aggiungeremo lo spazzolino e compagnia bella cantante e suonante che altro che altro che altro che altro non lo so questa volta per partire sono un po' più in confusione vabbè adesso poi in valigia aggiungerò il phon e la spazzola con il pinzettone il pinzettone che fa sempre un po' lo stile e dobbiamo dire la verità iniziamo a fare lo stile quindi in linea di massima togliamo tutti quanti gli andiamo a mettere in porta pennelli così queste qui non ci servono abbiamo ottimizzato ok questo abbiamo deciso di non portarlo quindi abbiamo ottimizzato lo spazio e quindi queste sono le cose che dovrò portarmi però quando vabbè in questo caso la situation è abbastanza mh 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 e capite quando dico mh 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 e cosa significa perché se non non dovessi avere un evento X avrei portato semplicemente una palettina del tipo così nude dove c'è il nero il marrone il beige e quant'altro la matita il mascara due pennelli uno per il chiaro e uno per il colore un po' più scuro pennello del fondotinta pennello del della terra e stop in questo caso la situazione cambia e quindi ho messo tutto quello che mi è passato per la mente però adesso penso di dare una piccola forma all'idea che ho di make up e rimuovere parecchie cose quindi andare ancora di più a sfoltire il mio la mia box make up e niente vediamo un po' perché se riesco a sfoltirla io queste cose che ho qui dentro le metto qui e i pennelli poi li metto a parte in valigia e ciao ciao che altro vi devo dire qualche altra cosa non lo so che altro ci può servire quando noi andiamo in viaggio vabbè noi donne metteremmo anche tutta la casa perché non si sa mai però questo è quanto quindi se avete un'idea di quello che dovete fare andate belle che spedite mettete quello che vi serve e basta che vi serve perché sono anche spagnola io avevo le spagnole quindi mi serve un po' le cose e quindi le metto tutte nella box automaticamente e quindi questo invece se avete diciamo le idee molto chiare come me mettete tutto quello che vi passa per la testa e vi troverete una meraviglia buono raga poroi poroi è tutto allora ragazzi io vi mando un bacio vado a finire di sistemare la valigia nel frattempo edito il video e penso al make up che devo realizzare ovviamente non è che vi spoilerò il trucco che farò cioè andiamo su grandi linee a vedere un po' come si diciamo diamo una forma al make up che ho intenzione di fare ovviamente con altri colori perché non è che faccio quel trucco perché sennò mi spoilerò il trucco e non è da me fare queste cose e e niente come potete notare the pinzeton is the new black e scrivete nei commenti voi cosa mettete nella nel vostro beauty box o valigia di trucchi e ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale lasciatemi un like commentate condividete il video facciamo bello crescere questo facciamo crescere frescere frescere facciamo frescere anche il canale e vi devo lasciare perché adesso sono in modalità troppi pensieri quindi dico stronzate benissimo ci vediamo al prossimo video e un bacio ciao ciao ciao